Come puoi evitare di andare Brock giocando i tornei di poker? Sto registrando questo video in un momento in cui sono abbastanza infastidito perché un ragazzo mi ha detto che recentemente è andato Brock e questo stesso ragazzo in realtà aveva ottenuto talmente tanti risultati e stava talmente crescendo bene a livello tecnico che era matematicamente impossibile andare Brock però lui ci è riuscito, come? Facendo più volte il passo più lungo della gamba Cosa significa? In termini pratici significa partecipare a partite troppo più importanti rispetto a quelle che puoi permetterti farti ingolosire da situazioni, partite, tornei che non dovrebbero interessarti farti prendere un po' troppo la mano giocare discipline per le quali non sei preparato trattare il poker come un gioco d'azzardo e non come un gioco d'abilità soprattutto il gioco nei tornei perché il gioco in genere nei tornei è un gioco d'abilità a tutti gli effetti e come tra le dovresti trattarlo per ottenere dei risultati e per non farti seriamente male perché di questo è che stiamo parlando quindi voglio darti alcuni consigli per evitarti di trovarti in situazioni spiacevoli che sono dietro l'angolo per tutti anzi, io che ti parlo non è che sono nuovo a queste situazioni ne ho viste veramente infinite in sette anni di presenza nel mondo del poker nei tornei soprattutto ho visto di tutte e di più ho visto gente bravissima ottenere risultati importantissimi e finire letteralmente in miseria per non utilizzare un termine più forte nel giro di pochissimo tempo ho visto talenti sprecati perché appunto vincevano e poi non avevano la capacità di poi concretizzare il loro talento in un guadagno costante quindi di poter sperperavano tutto quello che riuscivano ad ottenere e questo è davvero un peccato ed è soprattutto un rischio che è dietro l'angolo per chiunque chiunque giochi poi il poker è un gioco d'abilità sicuramente però come ogni disciplina gioco, situazione chiamala come vuoi come ogni situazione dove ci sono i soldi in mezzo dove c'è la possibilità di vincere o guadagnare dei soldi a un certo punto ci danno alla testa attenzione questo non riguarda solo il mondo del poker perché in realtà anche quando fai degli investimenti in altri mondi il rischio di fare il passo più lungo della gamba di essere un po' troppo avido e ti può portare a fare cavolate di questo tipo nel poker è accentuato perché comunque è poco da fare i soldi sono una componente decisiva forse è la principale molti non giocherebbero molti giocano a scacchi per esempio per la passione degli scacchi io non so quante persone giocherebbero a poker se non ci fossero i soldi e quindi devi imparare a conoscere e capire come si muovono come agiscono su di te e controllarli di conseguenza e quello che io voglio darti oggi sono i due pilastri della disciplina che sono alla base di tutto per giocare i tornei non esiste la possibilità di approcciare i tornei in modo professionale di ottenere risultati di ottenere risultati costanti che sono il più possibile non dipendenti dal caso quindi dalla fortuna nel breve periodo che quindi dipendono soprattutto da te non esiste la possibilità di ottenere questi risultati se non segui questi due pilastri di cui ti parlo ora sono i due pilastri della disciplina e vengono prima di tutto il resto prima anche del studiare del migliorare il tuo livello di gioco del diventare più bravo sono giocare sempre in bankroll visto che i soldi nel poker sono così importanti i soldi che utilizzi per giocare lo sono ancora di più per permetterti di avere quella costanza nel poter giocare da un lato nel poter far valere la tua abilità e nel garantirti abbastanza tempo per ottenere risultati derivanti dalle tue scelte al tavolo verde ogni scelta ogni cosa che tu farai quando giochi una mano di poker quando giochi un torneo di poker dipende in parte dalla fortuna il risultato dipenderà in parte dalla fortuna ci sono tante cose che puoi fare all'interno della singola mano e all'interno del singolo torneo per ridurre l'impatto della fortuna ed è quanto vediamo nel corso varianza 0 ma non c'è niente di così importante come giocare in bankroll come partecipare a tornei che ti puoi permettere cosa significa giocare in bankroll in questo canale trovi un video che te ne parla in modo più specifico però per i tornei significa sostanzialmente avere almeno 400 volte il buy-in del torneo come riferimento gioca sempre in bankroll e sarai a metà strada per ottenere i risultati che vuoi aspiri nel poker e eviterai soprattutto il rischio di farti seriamente male a più livelli sia economico che personale perché il vero problema che si nasconde avere la bestia nera dietro il poker è questa qui nonostante sia un gioco d'abilità a tutti i vizi e tutti i problemi del gioco d'azzardo che sono appunto legati ai soldi che ci sono in gioco e il secondo pilastro della disciplina è la consapevolezza di quello che è il tuo livello di gioco e soprattutto il fatto che tu deciderai sempre e solo di iscriverti a partite tornei in cui sei tra i giocatori più forti è tuo preciso scopo sederti nei tavoli dove tu sei il favorito o sei tra i favoriti perché per poter ottenere un profitto a qualsiasi livello nel poker devi essere più bravo dei tuoi avversari se non c'è questa caratteristica starai facendo esprimendo un gioco ad atteso a valore atteso negativo che alla lunga ti porterà a perdere soldi e non a vincerne e quindi questo è quello che completa la medaglia della disciplina non ti siederai mai ad un torneo che in cui non sei tra i giocatori più bravi e questo può anche voler dire che nella maggior parte dei tornei non ti siedi perché non sei abbastanza bravo ne devi essere consapevole e il modo corretto di operare è studiare finché non diventi abbastanza bravo è brutta da dire così perché prendo per esempio questi due criteri se li applicassi alla totalità dei giocatori che ci sono per ora iscritti ai tornei la verità è che il 70-80% di loro non dovrebbero essere presenti a quel torneo è un problema per loro sicuramente sì è un grande 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 problema però tu che stai guardando questo video e che probabilmente sei interessato a migliorare come giocatore da torneo probabilmente dovresti sforzarti a essere diverso dal 70-80 90% dei giocatori che non segue questi due pilastri e che rischia in ogni momento di farsi un male enorme di avere problemi enormi giocando a questo gioco che tu vuoi evitare al contrario tu vuoi migliorare abbastanza il tuo livello di gioco da poter ottenere risultati positivi a qualsiasi livello non deve essere per forza un livello eccessivamente alto nel senso che magari giochi tornei un torneo di basso buy-in e ottieni risultati lì non è che devi essere per forza un campione che vince i tornei live più grandi puoi arrivarci però devi essere consapevole che serve un grande studio dietro una grande preparazione e che non è banale e niente questi sono i due pilastri della disciplina può succedere che non sei abbastanza bravo che non hai i bankroll per affrontare un torneo sì certo che può succedere nel senso sei un amatore però devi essere consapevole che non stai affrontando il poker in modo professionale in modo in quello che serve il modo corretto per ottenere risultati e di conseguenza non ti aspetti di vincere dei soldi di vincere dei tornei ma ti aspetti semplicemente di fare un'esperienza e di bruciare dai per bruciati i soldi che stai mettendo in gioco come quando io vado al ristorante do per scontato che i soldi che spendo per la scena non non mi ritornino indietro in cambio il cibo in cambio l'esperienza di aver passato una serata al ristorante lo stesso vale nel poker se sei un amatore se sei un hobby se non hai qualcosa che fai a livello professionale o che non aspiri a fare a livello professionale ci sai che ogni tanto prendi quello che è quello che vuoi permetterti e poi lo sai che è bruciato sai che non tornerai indietro se poi dovesse tornare indietro pazienza meglio però non è su questo che stai facendo affidamento soprattutto sei consapevole che stai affrontando si stai buttando a capofitto come un pesciolino in una in una gabbia di squali come se appunto io volendo giocare a tennis andassi a giocare a Wimbledon contro dell'amatore andassi a giocare a Wimbledon la mia aspettativa non è neanche di vincere una partita non è neanche di fare un punto quindi è questo quello che deve essere chiaro se è chiaro questo poi siamo tutti grandi e maturi e possiamo fare le scelte più opportune però se aspiri a fare a trattare questo gioco a un livello più serio puoi studiarlo puoi migliorare quindi ti stai impegnando in questa direzione la cosa che prima di tutte deve venire è la disciplina che si regge su questi due pilastri giocare in bankroll e giocare sempre tornei che sei abbastanza bravo da poter affrontare per poter sei nel miglior tra i migliori giocatori che partecipano a quel torneo quindi puoi generare un vantaggio quindi per questo video è tutto io ti ricordo di visitare il sito www.varianzazero.com dove trovi il principale dei miei corsi il primo che ti invito a seguire il più pratico che ti insegna come utilizzare come fare quelle che sono le strategie le tattiche le scelte che ti aiuteranno a contenere l'influenza del caso sul risultato che avrai nei singoli tornei che vai a giocare nelle singole mani e che è il corso più operativo che sono riuscito a realizzare fino ad ora sui tornei di poker più operativo perché in poco tempo riesci a prendere le informazioni che ti condivido e trasferirle nel tuo gioco e quindi ottenere dei risultati grazie a questo e quindi ti invito a visitare www.varianzazero.com ti ricordo gioca sempre seguendo i tuoi pilastri della disciplina e ti saluto ciao da Mario Kelder 2010